E' una partita strana, stranissima. Noi siamo andati in vantaggio a più 6 a un certo punto, poi abbiamo completamente perso la lucidità in qualche occasione e loro sono state molto brave a riprendere una partita. Sul finale ci siamo un attimo riprese, devo fare i complimenti all'inizio e alla fine della partita alla mia squadra e chiaramente bisogna lavorare su questi cali di concentrazione che ci capitano in un periodo ben definito della partita.